Allora, dopo, ciao, allora, five minutes and we are back Allora ragazzi, non siamo in diretta prima di tutto, ma questo video andrà assieme alle dirette Che dire, alla fine dobbiamo anche fare una scenetta lungo la Lincoln Road Siamo a un locale chiamato Kansas, abbiamo evitato tutte le trattorie italiane E quindi alla fine siamo venuti alla Kansas dove domani vi racconteremo, stiamo per ordinare E che dire, vi faccio vedere un po' di cosine, vedete, questo è il menu Adesso noi andremo a prenderci un burger, vediamo un po' Ciao, sono tutti pronti a servire perché? Perché chiaramente sono qui per lavorare Questi due anni che non lavorano, ciao e ci vediamo più tardi